Allora, è il momento anche di fare gli auguri perché oggi compie gli anni, sai chi? Non lo sai, Antonino Asta. Oh, che piacere! Vi hanno regalato la vittoria con la prima della classe. E quindi è il momento del Come eravamo di Fabio Milano, che è ovviamente dedicato ad Asta. Ne fa 41. Ne fa 41, perché è nato il 17 novembre del 1970. Giovano, un giovanissimo ragazzino, eh Asta? Dov'è Reikia Vick? Eh? Reikia Vick. Suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction Whether you saw a world sun or BBC One, there's information about it. The thrill of the fight rising up to the challenge of our rival And the last known survivor stalks his bread in the night And he's watching us all in the eye of the tiger Face to face Out in the heat Out in the heat Out in the heat Hanging it up and staying hungry They stack the odds still we take to the street For the guilt is the skill to survive It's the deep Eye of the tiger It's the thrill of the fight Rousing up to the challenge of our rival And the last known survivor stalks his bread in the night And he's watching us all in the eye of the tiger Allora, questo era Antonino Asta Ci scrive... Tanti auguri, eh? Naturalmente Ci scrive Luca da un passato... Tanti auguri, eh? Kill p zu, C- Aruba, orial